Musica Benvenuti amici sportivi ad una nuova puntata di Bordocampo Serie B Parleremo della quinta giornata di campionato e dell'imentissima sesta giornata che andrà in scena domani sera sempre per la Serie B e dello 0-0 al Francioni dell'Atina che non riesce a trovare la vittoria che cercava mentre il Lanciano mantiene la sua imbattibilità, un punto a testa che forse è servito più agli abruzzesi che all'Atina cercava desideratamente i tre punti che mancano oramai da inizio campionato ma tempo per rifarsi ci sarà, ci sarà subito domani sera in Veneto contro il Padova analizzeremo comunque la partita contro il Lanciano e lo faremo con Beppe Incocciati Buonasera Mister Buonasera Aurora, buonasera a tutti E lo faremo anche a Latina con Domenico Ippoliti ed il suo ospite che è una giovane promessa dei neroazzurri, giusto? Buonasera Aurora, buonasera Mister, buonasera a tutti Buonasera Sono in compagnia di Alberto Massacci, uno delle, come hai detto te, delle giovani leve di questo Latina adesso ci faremo raccontare quelli che sono i suoi trascorsi Eh perché ha dei trascorsi molto interessanti Alberto, noi l'abbiamo studiato poi so che sei di Siena, del quartiere La Lupa, giusto, che fa il palio Sì esatto E' informatissimo Alberto E tifa la Roma, da Siena, invece di tifare il Siena tifi la Roma Sì, ho origini romane Ah, ho origini romane però non si sentono queste origini perché da subito si sente molto l'accento senese Bene Alberto, ti conosceremo meglio, lui ha un terzino destro, giusto? Sì, faccio il terzino centrale, faccio un po' il gioco difensivo Sei duttile? Ah, buono a sapersi, tu arrivi dal Modena, sei arrivato in estate a Latina Sì, sono arrivato gli ultimi giorni di mercato, diciamo, sì, gli ultimi giorni Beh, allora questa sera noi avremo modo di conoscerti molto bene Intanto scriveteci al 331 12 45 625, 331 12 45 625 E poi ancora su Twitter, chiocciola, teoniverso.tv Oppure l'hashtag Bordocampo Serie B Quindi su Twitter, chiocciola, teoniverso.tv Oppure usando l'hashtag Bordocampo Serie B E allora, immergiamoci subito in quello che è stato il match, l'anticipo della quinta giornata di campionato Domenico, tu eri lì e mi hai detto subito un pareggio giusto Ma invece, secondo me, Latina forse non avrebbe meritato di più? Beh, se andiamo a rivedere a sette minuti dal novantesimo L'occasionissima per gli ospiti col salvataggio di Cottafava Direi che, insomma, c'è da ragionare su questo meritare di più Sicuramente Latina ha avuto degli sprazzi importanti Avrebbe potuto fare sua la partita Anche perché questo Lanciano mi è sembrato squadra compatta Sicuramente ottimamente organizzata Però una spanna al di sotto del Varese che avevamo visto invece due settimane prima Di conseguenza direi che tutto sommato il pareggio va bene Mister, un pareggio giusto? Sì, ricollegandomi a quello che diceva prima Domenico Insomma, a parte quella ghiotta occasione Nello scadere della gara Però, insomma, tutto sommato Non ci sono state grandi Grandi situazioni Sono mancati i gol ma non le occasioni Da una parte e dall'altra Io credo che per vincere le gare ci voglia ben altro Credo, insomma, sia un po' poco Pensare poi obiettivamente Se non legarsi un po' a quello che è l'aspetto della fortuna Ma in questo mestiere, insomma, la fortuna poi alla fine Non ti preme più di tanto Credo che invece sia più opportuno, ecco Fare in modo che una squadra, soprattutto Che va alla ricerca della vittoria Capisco che non è semplice Debba creare quanto o meno quando gioca in casa Molto ma molto di più Domenico, questo 3-5-1-1 Ha spiazzato tutti Breda mettendo Ghezzal l'unica punta Dietro lui Crimi Eh sì, ha sorpreso un po' tutti questo assetto Anche perché obiettivamente come trequartista A ridosso dell'unica punta Magari si poteva pensare ad un maltese Non so che ha le caratteristiche un po' del numero 10 E invece ha proposto questo Crimi Che viene a Latina con le credenziali di interditore Soprattutto di giocatore di gran movimento in mezzo al campo Eppure l'ha proposto in quella posizione Direi che ha fatto bene Ha fatto un'ottima impressione L'ex giocatore del Grosseto Latina sì, molto accorto Lo stesso Breda nel dopogara Ha parlato di una priorità per la sua squadra Quella dell'equilibrio, dell'accortezza Ha sottolineato il fatto che in precedenza La squadra aveva subito otto reti Adesso invece non ne ha subito alcuna In due gare Evidentemente in questo momento Si guarda molto all'assetto A certi equilibri Più che a puntare In maniera forse anche un po' spregiudicata Verso i tre punti Miss Salmon È stato lasciato un po' troppo solo Secondo te, Gezzal? Se me lo chiedi Vuoi sapere come la penso io? Certo te lo chiedi un po' No, nel senso per quello che Riconducibile a quello che è Un mio pensiero per questo mestiere Io credo che Non si possa fare a meno degli attaccanti In questo mestiere Io credo Essendo lo Stato Essendo allenatore Insomma Le certezze Per quello che riguarda la fase di finalizzazione Che è quella che Deve avere più efficacia in assoluto Credo che non possa esimersi Dalla presenza Degli attaccanti di ruolo Cioè oggi vediamo insomma Anche squadre di Serie A Che Paradossalmente ne fanno Per fortuna non tutti Vediamo l'ultima La Lazio Che si ostina ancora a giocare Con un solo terminale offensivo Che è close Pur essendo bravissimo Abbiamo visto che ci sono delle difficoltà Nell'arrivare Diciamo a chiudere le azioni Nonostante gli esterni Sono efficaci In Latina Lo dicevate voi Breda sceglie un giocatore Che nasce mediano Come Crini E gli dà dei compiti Che non Secondo me Non sono Compatibili Tra virgolette Ha creato Un po' di brividi Alla difesa del Lanciano Crimi Anche in quel ruolo Ma sì Ma certo Certo che sì Insomma è un giocatore Nonostante la sua giovanità Ha anche Un'ottima esperienza Non solo in questa categoria Ma anche in quella superiore Ed è chiaro Che si ritaglia Quello spazio Opportuno Per fare il suo Ma credo che lui Insomma Lo avete detto voi Io lo confermo Perché lo conosco A livello Di possibilità E di capacità È un giocatore Che staziona Nella linea di centrocampo E quindi Inevitabilmente Va a giocare In quella linea lì E il solo Ghezzal Poverino Insomma Non è che possa fare Più di tanto Ritorniamo Ghezzal Che mi sembra Un po' nervoso Forse perché non riesce A sbloccarsi Domenico Anche quando è uscito Ho visto che ha detto Qualcosa Ai ragazzi Molto molto nervoso Sì beh lui ce l'aveva Più che altro Con l'arbitro Da quanto mi sembra Di aver capito Perché Tra l'altro Insomma È un giocatore Già perfettamente Integrato Nel gruppo Alla fine è andato Insieme ai suoi compagni A salutare la curva La tifoseria Quindi In quel senso Nervosismo Ma magari Per quello che non è riuscito A fare Lui non è ancora Al top Della condizione Ecco A tal proposito Volevo chiamare In causa Alberto Prima di tutto Che impressione ti sei fatto Di questo gruppo E di questi nomi importanti Nel gruppo Sicuramente Il gruppo è molto valido Ci sono Giocatori molto buoni E anche come Spogliatoio Diciamo L'ambiente è sereno E si vive bene Ci si ambienta bene Fin da subito Anch'io essendo arrivato Gli ultimi giorni Non ho avuto problemi Stiamo lavorando Stiamo lavorando bene Il nuovo allenatore Ci ha dato un nuovo assetto E In fase difensiva Credo Abbiamo subito notato I miglioramenti Dobbiamo migliorare In quella che è la realizzazione Non è una latina Troppo prudente Alberto Non è una latina Troppo prudente Credo di no In quanto Le prime giornate Sono state un po' difficili E quindi In questo campionato Dove Sicuramente Chi subisce gol Poi è difficile rimontare Credo la prima cosa sia Cercare di non subirlo Quindi credo che Al momento La strada è quella giusta Poi sicuramente Dobbiamo migliorare Nella fase di realizzazione Anche perché le partite Vanno vinte Sicuramente Alberto Per te Comunque c'è Tanto da imparare Dai senatori Perché C'è Milani C'è Cottafava Sarà una bella esperienza Per te questa Sì sì Infatti Credo che mi possa Migliorare molto Sono venuto qui Cercando Spero di ritagliarmi I miei spazi E la concorrenza Molto valida La vedo anche Come una cosa positiva In quanto Mi spingerà sempre A lavorare al massimo Per appunto Farmi valere In mezzo al campo Aurora Apriamo questa parentesi Manchester Con Alberto Te la facciamo raccontare Assolutamente Io stavo aspettando Il momento giusto Per introdurre Appunto Il Manchester United Perché Alberto Appunto Ha dei trascorsi Soprattutto Alberto Io so Ho letto Che tu sei stato Chiamato da Ferguson Sì dai Diciamo Non è proprio Andata così Diciamo Il primo contatto È stato con un selezionatore Poi mi sono incontrato Con Ferguson Sì Ecco Che emozione è stata A incontrare Ferguson Anche perché tu allora Nel 2009 Avevi 16 anni Ero giovane Sì perché adesso Sei ricchissimo No vabbè Però Sì è stata Un'emozione Immensa Alla fine 16 anni Ancora Ti vedi come Un ragazzo Che gioca a calcio Lì ti si apre Un mondo nuovo Un'esperienza Che è stata Indimenticabile Mi ha aiutato Molto a crescere Che credo Che mi rimarrà Per sempre Tu hai lavorato Con la prima squadra Quindi sei entrato A contatto Anche con i campioni Del Manchester Sì ho iniziato Il primo anno Con le giovanili Poi dal secondo Quando entri In l'ambiente Delle riserve Che diciamo La seconda squadra È una sorta Di prima squadra In quanto Gli allenamenti Vengono Il 70% Diciamo svolti Con la prima squadra E poi Anche le partite Spesso sono Molti dei giocatori Della prima Scendono con noi Per farsi la gamba Per rientrare in forma E è stata un'emozione E anche un'esperienza unica C'è un aneddoto Che ricordi Qualcun? Un personaggio Che ti ha colpito? Credo che Ferdinand Per me Mi abbia dimostrato Cosa vuol dire Essere Il numero uno Al mondo Credo che Un difensore come lui E una persona Che si perde Dieci minuti Mezz'ora A spiegarti Dopo allenamento Come fare certe cose Credo Quando hai raggiunto Quei livelli Non è facile trovarla E l'insegnamento Che porti sempre con te Da quell'esperienza? Sì Quello Che alla fine Anche se raggiungi Certi livelli L'umiltà È la prima cosa Quando sei in quell'ambiente A partire da Ferguson E anche Scolz Tutti i top player L'ambiente è comunque sereno Non vedi Non vedi Sceneggiate Non vedi Persone che si montano la testa È tutto molto tranquillo E questo Sono me È una cosa importante Ti fa capire Com'è l'ambiente Manchester E come ha fatto Un ragazzo di 16 anni A non montarsi la testa Dopo questa esperienza? Alla fine appunto Credo sia proprio La società stessa Che Come ho detto Basa i propri principi Su queste cose E Fin da subito Ti insegnano A comportarti Prima ancora di giocare Poi Certo È anche Nelle tue caratteristiche Personali Però La maggior parte dei ragazzi Vedo che Tende a rimanere Con i piedi per terra Ecco Per concludere il percorso Ma posso fargli una domanda io Domenico? Sì prego mister Ma invece Tecnicamente E tatticamente Che cosa ti hanno insegnato? Tatticamente Sinceramente Là il lavoro Non è Come qua in Italia Non Non lavorano molto Sulla tattica E Puntano il loro lavoro Più Sull'individuale Nel senso Anche difensivamente Ti fanno molto Lavorare sugli 1 contro 1 E 2 contro 2 Tutte situazioni Singole La parte tattica Viene un po' Messa In disparte In quanto è un gioco Molto fisico Molto rapido Veloce E Si cerca più appunto La creatività personale Le forze del singolo Che Appunto L'assetto tattico Poi ovviamente Un minimo c'è Però Rispetto all'Italia La tattica Viene considerata meno Mentre si lavora di più Sull'aspetto Individuale E questo è un po' L'handicap degli inglesi Purtroppo Eh sì è vero Perché finché giocano Nelle squadre di club Tipo il Manchester Dove possono Avere il sostegno Di grandissimi calciatori Ma che comunque Non fanno parte Della nazione Della nazione Poi quando vengono Chiamati in nazionale Hanno delle grandi difficoltà Mentre la nostra povera Italietta Nonostante tutto È campione Del mondo Per Quattro volte Disciplina Tattica Straordinaria Un paese piccolo E vince E quindi insomma Non si può fare Almeno di questo aspetto Almeno per quello Che riguarda Diciamo L'insegnamento italiano Quindi insomma Spero Che questo sia importante Quanto meno Riconoscerlo Alla nostra nazione Perché insomma Almeno sotto questo punto di vista Sicuramente Sicuramente Siamo i migliori al mondo Alberto Meglio il calcio inglese O quello italiano Visto che li hai provati Tutti e due Eh Bella domanda È una bella domanda In Italia È bello Perché è molto Studiato e lavorato In Inghilterra Se non me Si vive il calcio In maniera un po' più Serena E si riesce Basta guardare gli stadi Cosa succede allo stadio Già Lì si capisce Che si vive tutto In maniera molto più serena Sì Le stadi infatti Sono una delle cose Che mi piace di più In quanto Sia che giochi in Serie A Nel match Sia Che sei in terza divisione Gli stadi sono sempre pieni Le tifoserie Sono eccezionali E Non ci sono mai contestazioni Ti credo No è difficile È difficile Come in Italia più o meno Nessuno contesta No va bene sempre tutto Ma c'è anche una differenza sostanziale Posso dire una mia però Io preferisco il calcio italiano per questo Perché amo le tifuserie Così passionali Che contestano Benvengano le contestazioni Perché a volte fanno anche un po' Risvegliare Determinati momenti di sonno Delle varie squadre L'importante è che poi Non sfocino in atteggiamenti No Quelle brutte E tu per tre mesi Non puoi più entrare dentro lo stadio E quindi insomma C'è un'educazione Anche reprimente Sotto questo punto di vista Giustamente Perché insomma Quando si è in mezzo agli altri Bisogna sapersi comportare In Italia ancora Dobbiamo fare passi in avanti Sotto questo punto di vista Alberto nella tua Roma Maicon è il tuo idolo? Maicon è diciamo È sempre stato il mio idolo Ora che è la Roma Non avevo dubbi Ancora di più Non avevo dubbi Infatti sono andata a colpo sicuro E non l'avevo letta questa Non l'avevo letta Sono andata intuito Allora signori Andiamoci adesso a sentire Però cosa ha detto Breda subito dopo Lo 0 a 0 Contro il Lanciano Soddisfatto Anche se Quei tre punti Servivano a Latina Ascoltiamolo Si saliva un pochino Di più morrone Con qualche A destra Hanno sviluppato bene Perché sono arrivati Tantissime volte Fino in area A sinistra Abbiamo fatto Un lavoro diverso Però Ci sta anche Che una fascia Spinga un pochino Di più E l'altra Di equilibrio Ancora Sono cose nuove Che chiedo A Crimi Lì L'anno scorso Qualche partita Mi ha detto che aveva fatta E non lo sapevo Però l'ha fatta Però magari Lavorandoci Può attaccare Due volte in meno La fascia E andare due volte in più In area E anche questo Potrebbe essere Un'arma in più Però Credo che si sia vista Una squadra compatta Che ha rischiato Che ha rischiato molto poco Che per due partite Di fila Non piglia gol Credo che anche questo In ogni caso Sia una cosa Per noi importante Perché dà fiducia Alla difesa Che ha fatto una Buona partita Tutti hanno fatto Una buona partita Anche dietro Dobbiamo e possiamo Fare delle cose migliori Perché possiamo essere Ancora più aggressivi Secondo me E se riusciamo a essere Progressivi Possiamo tenere anche La squadra più alta Di 10 metri In questa maniera E far correre Un pochino meno gli altri Però per il tipo di gara Insomma Sono contento Dopo la partita Io non parlo mai Perché non voglio Di stupidaggini Intanto E poi voglio anche Avevo un'analisi Più dettagliata Del tutto Ma sono dato Un attimo Io ho fatto i complimenti Perché in ogni caso L'atteggiamento è quello giusto Hanno speso tanto E c'è Il rammarico E il rammarico È frutto Non di non aver dato Il massimo Anzi Ma di volere Ancora di più Che è quello che ci deve Muovere subito E sapendo che già martedì Ci aspetta un'altra partita Il rammarico Di volere Ancora di più Domenico Lui parla di una difesa Attenta Una squadra compatta Però I tifosi Volevano il gol Eh sì Tra l'altro Abbiamo notato Che veramente In maniera molto rara Il latino è andato al tiro Ed è stata questa La principale Mancanza Di una squadra Che Del resto Aveva un assetto A trazione Anteriore Come si sa A dire insomma Soltanto nel finale Sono entrati sia Barraco che Negro Abbiamo un po' Allederito il centrocampo Per dare più consistenza Davanti Ma a quel punto Diciamo la formazione ospita Aveva preso un po' Tutte le misure Ed è stato difficile Trovare spazi Certo Serve più concretezza Bisogna sempre partire Anche dal presupposto Che Manca E come Un Jonathan Lì davanti E Al momento Non sembra Avrei da voler Puntare su Jefferson A meno che Non abbia voluto Preservarlo Per schierarlo Titolare Nella partita Di domani Questo lo sapremo Soltanto domani sera Beh comunque Domenico Un Latina Molto più propositivo In atteggiamento Sì Un passo avanti È stato fatto Sull'atteggiamento Sì sì Assolutamente sì Questo lo si è notato Anche nel centrocampo Insomma Sicuramente l'uomo in più Ha dato più consistenza Alle azioni Della squadra Nera Azzurra E poi c'è Quei Ristoschi Che sta veramente Facendo faville È informissima Ristoschi È informissima Ed è un vero treno Lì Anche perché poi viene Assistito a dovere Dai compagni Che gli aprono gli spazi Insomma È veramente una garanzia In quel senso Mister tu sei d'accordo Con Breda Quando dice È una squadra compatta C'è bisogno ancora Un po' più di equilibrio Meglio la fascia destra Che la sinistra Ma comunque Ogni fascia Aveva dei suoi compiti Particolari Beh con un centrocampo Praticamente schierato In questo modo È chiaro che i laterali Hanno dei compiti Di propulsione Cosa che sicuramente Ristoschi In questo momento Sta facendo meglio Di Alassane A mio avviso Mi sembra di avere letto Insomma Rischia addirittura Il posto Per Per il prossimo incontro A Padova Con un altro inserimento Insomma Visto che c'è qualche Qualche qualificato Bocciato a Alassane Capisci che è importante Capisci che è importante Sapere queste cose Cercare di scrutare Infatti voi che siete così bravi Sapete perfettamente Che se rientra a Milani L'unico che può uscire a Milani Ma Milani sta bene Domenico Allora Aurora Ti dico questo Milani anche in estate Da mister Auteri Fu più volte provato A sinistra E questa potrebbe essere Una soluzione Molto interessante Anche per dare più Personalità Più carattere Insomma Da quella parte Non sta benissimo Nel senso che è stato Regolarmente convocato Ma a quanto pare Partirà dalla panchina Quindi Da valutare anche questo Secondo me Ci sarà spazio per lui Sabato con il Brescia Ok restiamo a Latina Lanciano Però E vediamo cosa hai selezionato Tu Questa sera Per noi Per i nostri telespettatori Vediamo un po' Cosa hai analizzato No ma non Ritornando un po' A quello che si diceva Poca anzi Diciamo Una squadra Come in Latina Che è vero Che insomma Acquista Dalle passate Giornate Maggiore equilibrio Sotto l'aspetto Difensivo Cioè nella fase Non possesso Però difetta Inevitabilmente In quello che è L'aspetto offensivo Che a mio avviso Insomma è quello Che conta più In assoluto Se si vuole raggiungere Qualche risultato importante Perché pensare Insomma di Di non prendere mai i gol E Pensare magari Come dicono tanti Prima o poi il gol E lo fai Non mi trovano Non mi trovano Io preferisco Prenderli Ma farli anche Quindi insomma Quindi rivediamo L'immagine che avevi Selezionato Detto questo Lo vediamo immediatamente Qui vediamo Per esempio Un'azione Che il suo Ghezzal Credo che sia Si allarga Guardate dentro Di rigore Non c'è assolutamente Nessuno Se non il solo Morrone Che gira a rete Ma guardate C'è nessuno Che accompagna Non è un'azione Nonostante Nonostante l'attaccante Il riferimento Che apriamo una parentesi Non è Per Caratteristiche Non è Un attaccante Centrale Come può essere Jefferson Uno più di movimento Che Zal Vediamo Si muove Sulle corsie laterali Mette al centro L'unico che accompagna È Morrone Qua siamo al primo tempo E quindi Quindi sarebbe servito Una seconda punta Di solito Ecco Soprattutto quando L'unico attaccante Si apre sulle corsie Insomma Bisogna accompagnarlo O il centro campista Ritorniamo al discorso Che dicevi prima Credo che il solo Morrone Lì a chiudere Credo sia insufficiente Così come Nelle altre azioni Se andiamo a vedere Addirittura Abbiamo parlato Se possiamo andare Con le immagini Ristoschi Si abbassa ancora Che Zal Ristoschi Praticamente Dentro l'area di rigore Non c'è nessuno Come si può pensare Di vincere le partite Se non c'è nessuno Dentro l'area di rigore Ed è per questo Che io rivendico Anche quello Che è stato il mio ruolo Che gli attaccanti Per quello che riguarda Insomma Un aspetto Definitivo Di un contesto Di risultati Che è quello Realizzativo Non può Fare a meno degli attaccanti Mi sembra Il solo Bruno Qui sotto Il numero 5 Che accompagna l'azione Ma Ristoschi è costretto A calciare Da posizione De filata Ma Qui lo vediamo Assolutamente Ancora una volta Dentro l'area di rigore Siamo nel secondo tempo Credo che se non sbaglio Domenico Quello centrale Sia negro Con Barraco Che crossa Però c'è ancora una volta Un difensore Che va a colpire Dentro l'area di rigore Guarda caso La palla La spara Sopra la traversa Se ci fosse stato Un attaccante Questi sono tutti elementi Che A differenza Del Per esempio Del Lanciano Che se andiamo A vedere un attimo La troviamo Seconda in classifica Ha fatto qualche gol In più A differenza Del Latina Che fino ad adesso Ne ha fatti Semplicemente due Ed è con l'Empoli La miglior difesa Quasi la stessa azione Del Latina Abbiamo Se ancora facciamo Un passaggio in avanti Quattro giocatori Del Del Lanciano Che sono lì pronti A sfruttare Semmai Qualche Qualche Lo vediamo Dentro l'area di rigore Basso Addirittura c'è un altro Che arriva adesso Che ha accompagnato L'azione Ecco lo vediamo Acqua in basso Qui È ancora quella di prima Se non sbaglio Ah no Qui è un tiro Ancora lo vediamo Che ci sono Maglie bianche Dentro l'area di rigore E addirittura Sull'ultima azione Vediamo come La preparazione Di quello che può essere Una finalizzazione di gioco E questo è il lavoro Dell'allenatore Vediamo su quest'azione Un cross Dove c'è La prima punta Che taglia sul primo palo La seconda Che va in zona centrale E il secondo palo Coperto dalla terza punta Che riceve Indisturbatamente dietro Perché va a chiusura Della traiettoria di passaggio E qui La Tina Rischia Di perdere la gara Ma non la rischia Perché magari Non era attenta Sotto l'aspetto difensivo La rischia perché La squadra avversaria Aveva nelle proprie idee di gioco La conclusione Questa volta Gli ha detto Gli ha detto male Ma la prossima volta Sicuramente Non sarà così E non mi stupisco A vedere un lanciano Che oggi Secondo in classifica Dietro l'Empoli Che io Se non ricordiamo male Avevo già detto Anzitempo Che l'Empoli Secondo me È la squadra più Forte di questo campionato Tra l'altro La fortuna è stata Che Mammarella Abbia sbagliato la punizione Uno specialista Lui In punizione Giusto Domenico? Sì Lui ha detto Nel dopo partita Che la barriera Era troppo vicina Quindi È stato ostacolato In quel senso Insomma Questa è la Rivelazione che ha voluto dare In sala stampa Tra l'altro Mammarella Due anni fa Era in procinto Di passare in nero azzurro Poi non se ne fece più nulla Però sicuramente È un gran bel giocatore Abbiamo parlato di Ristoschi Abbiamo parlato di Milani Ma qui al mio fianco C'è un altro esterno destro Come la mettiamo Con questa bella concorrenza Alberto? Sicuramente La concorrenza è valida Come ho già detto La vedo Come un fatto positivo In quanto Mi aiuterà A spingere sempre al massimo A cercare di migliorarmi Per ritagliarmi i miei spazi Poi Ma le tue caratteristiche Alberto? Ma io Ho iniziato come Esterno Terzino In quanto da giovane Ero veloce E potente Poi Negli anni Specialmente in Inghilterra Lavorando molto sul fisico Mi sono anche un po' ingrossato Quindi Ho anche fatto Il centrale di difesa Spesso Comunque sono un po' Un jolly difensivo Ho una buona corsa Di potenza Diciamo Non sono rapidissimo Però Ho un po' Una corsa potente Diciamo E noi non vediamo l'ora Di vederti all'opera Intanto andiamo a leggere Qualche messaggio Dei nostri telespettatori Perché mi dicono Dalla regia Che sono tantissimi E bisogna leggerli Intanto vi ricordo Il numero 331 12 45 35625 Forza Latina Domani a Padova Per vincere Pielu da Latina Forza Latina Aurora Hai mai pensato Di partecipare A Miss Universo? No perché Faccio la giornalista sportiva Dai ragazzi Stiamo facendo passi avanti Ce la possiamo fare Forza Latina Sempre Dimmi Mister Cosa vi dicevi? Però Miss Tele Universo Sicuramente Miss Tele Universo Sì Tutti parlano Che in Latina Non è da serie B Per me Torna in C Voi che ne pensate? No Non guffiamo Invece per parlare Del Frosinone Ieri sono stato allo stadio Una squadra ancora bloccata Mi ha sorpreso Aurelio Sembra un altro Grazie per il complimento Però parliamo domani sera Del Frosinone Quindi mi raccomando Alle 21.15 Con Bordocampo Lega Pro Sempre sulle Forza Latina Con Breda Già si è visto Un altro Latina Al Presidente Chiedo un ultimo sforzo Di prendere Un attaccante E dare Ancora Ce ne sono Che sono infortunati Oppure comunque Breda Ha deciso Di scegliere questo 3-5-1-1 Quindi sacrificando Un attaccante Ma presto li vedremo Tutti quanti all'opera E magari Anche in gol Intanto Andiamo avanti Alberto Tu lo sai Che Domenico Eppoliti Che è lì accanto a te Ha degli alti e bassi Cioè? In che senso? Non di umore No È che lui invece Di dare i voti Da alti e bassi Quindi Vediamo Chi sono stati gli alti Per Domenico Nella partita Tra Latina E Lanciano Claudio Iadecola Ci manda la schermata Alti il primo Marco Crimi Giusto? E sono d'accordo con te Sì Assolutamente sì Aurora In un centrocampo Piuttosto compassato Lui è È il cambio di passo È l'accelerazione Il giocatore che è a corsa Che è a piede Secondo me Se gioca qualche metro Più indietro Rispetto a Venerdì scorso Può fare veramente La differenza E aggiungo Un grande acquisto Dell'ultimo minuto Marco Crimi Assolutamente Vediamo l'altro L'altro alto Per Domenico Eppoliti Vabbè Qui ne abbiamo già Ne abbiamo già parlato E tu c'è il debole però Domenico Perristoschi Tutte le settimane Lo mettiamo alto È vero Perché sta rendendo al massimo Il Macedone Sta veramente Facendo benissimo Però L'ho sottolineato Anche prima È anche merito Di una squadra Che lo assiste a dovere Perché I movimenti Lì davanti Per creare spazi Sulla destra Sono serviti Aristoschi Per gli inserimenti Lo si è visto anche In azione di prima Quando Ghezzal Lo ha lanciato a rete Insomma Sta attraversando Uno splendido momento di forma Ma Peccocciotti Non è d'accordo Come no Non è difficile Trovare lo spazio Necessario Da parte di Ristoschi Che ha nelle proprie caratteristiche Questo tipo di atteggiamento Soprattutto perché Sa perfettamente Che dietro le sue spalle Quando si sgancia C'è la copertura immediata Di Bruno Questo è fuori discussione Quindi Diciamo In parte È molto sereno Per poter sviluppare Questo tipo di atteggiamento Il terzo Domenico Il terzo Aspettiamo la grafica Eccolo qui Ah La scorsa settimana Era a basso Sì Invece l'ho visto molto meglio Max Mi è sembrato più in palla Più in condizione Anche se è un Latina Che tende molto All'azione In orizzontale Questo lui ne risente Insomma la squadra È ancora un po' Piantata sotto questo punto di vista Serve ancora quella Scioltezza Quella fluidità Nella manovra Però l'ho visto molto più Padrone della situazione E in crescita Dal punto di vista atletico Vediamo i bassi Adesso mi diverto Con i bassi Vediamo il primo Che ha selezionato Alassane Eh sì In effetti È vero quello Che ha sottolineato Breda Nel senso che Alassane Si è dedicato molto Alla fase difensiva E ha coperto gli spazi Insomma In alcune situazioni È risultato sicuramente prezioso Però serve altro da lui Serve più Più presenza Più personalità E più precisione Nel momento in cui Si oltrepassa La linea di centrocampo Beppe Non riesce ad avere La stessa serenità di Ristoschi Rischia il posto Secondo me Perché Insomma È un po' Bisogna che qualcuno Gli lo dica a questo ragazzo Che comunque Può tranquillamente Spingere in avanti Perché nonostante tutto Dietro è abbastanza coperto Soprattutto nella gara Contro il Lanciano Con Crimi Che era Prevalentemente Dentro la linea Del centrocampo Quindi addirittura Era un centrocampo a sei Si può definire No? Quindi in fase difensiva Sei e tre difensori Fissi Sono nove Ce n'è da difendere Insomma Quindi Voglio dire Bisogna Ecco Forse manca un po' Quindi lo volete più offensivo Alassane? No Per la tipologia del modulo Deve dare queste certezze E queste garanzie Lo sviluppo Proprio perché c'è una punta Solo Lo sviluppo delle corsie laterali È compito di Alassane a sinistra E di Ristoschi a destra Il secondo che hai messo tra i passi Ghezal Il sultano del gol Eh sì Decisamente penalizzato Dalla posizione Perché punta unica Lui che è un giocatore di movimento Insomma Secondo me Ghezal Può dare il meglio di sé Al fianco di una rete Di un riferimento centrale Non è ancora al top Però è un giocatore Che si sta impegnando molto E si confida Insomma Un massimo rendimento Da parte Di un giocatore che ci tiene Perché si è visto Anche come osserva di te Aurora Come era arrabbiato Quando è uscito dal campo Insomma Vuole fare di più Tra l'altro Non sta benissimo Quindi chissà Se domani Vreda lo rischierà Oppure lo proporrà Magari a partita in corso Vediamo il terzo Alessandro Bruno Nostro ospite La scorsa settimana Eh sì È vero Beh partiamo da un presupposto Bruno è un generoso È uno che Fa spesso lavoro oscuro Che magari si nota poco In campo Ha tappato parecchi buchi Anche Anche venerdì Però mi è sembrato Un po' affaticato A volte mi ha dato l'impressione Di correre un po' a vuoto Ecco forse avrebbe bisogno Anche lui Di rifiatare un po' Insomma Quindi di un turno di stop Stai dando un turno di stop A questi tre Ma non ce lo possiamo permettere Perché c'è anche Morrone Squalificato Quindi penso che Ippoliti è il nuovo giudice sportivo Un turno di stop A loro tre Sei d'accordo con Bruno Beppe? Non mi dire Si sono d'accordo Ma Bruno L'aveva detto la settimana scorsa Che è un ruolo per lui Almeno per quello che riguarda La posizione Nuovo Perché lui è stato sempre Dentro un centrocampo a quattro Quindi con i due filtri centrali Lui è Morrone Prima che arriva a Sebreta Adesso deve spingersi più avanti Non è un giocatore Che abitualmente ama Ricevere e muoversi Con movimenti senza palla Per ricevere palla in verticale Quindi è molto lineare Ed è uno che è abituato Negli anni Ad avere Insomma Ad impostare il gioco E quindi per lui Questo atteggiamento Forse lo penalizza Soprattutto Quando prende la palla Davanti a lui Non ha alternative Ha solo un riferimento Avanti Che è Ghezzale In questo momento Lui è che è abituato A avere tre punte davanti Quindi con grande movimento Bravo con il piede Poteva sicuramente Sotto quell'altro punto di vista Essere più efficace Alberto Non ti chiedo Se sei d'accordo Perché sono i tuoi compagni E sarei cattivissima In questa domanda Quindi assolutamente Sono buona Hai letto i messaggi I nostri telespettatori I nostri tifosi Anche i tifosi I vostri tifosi della Tina Sono molto calorosi Soprattutto con te Ho letto un bellissimo messaggio Ci aspettiamo Di vederti in campo E che tu Dia il meglio Beh È una bella Iniezione di fiducia Questa no? Sì sì Anch'io Spero di rientrare presto Purtroppo ho avuto Un infortunio A inizio campionato Che mi ha tenuto fermo Un paio di mesi Quindi Sono una decina di giorni Che mi rialleno con il gruppo E sto cercando Di riprendere la forma E di riprendere la condizione Molto positiva Molto positiva Infatti appena sono arrivato Vedere lo stadio pieno È stata Una cosa nuova Venivo dall'esperienza di Modena Dove vabbè Sì lo stadio è molto più grande Però C'era questa atmosfera Dello stadio Un po' vuoto In quanto vabbè Ovviamente Lo stadio era molto grande Qui invece è anche Tutto molto accogliente Tutto molto caldo E Specialmente anche dopo le sconfitte Sono stati sempre Lì vicini Molto Molto vicini alla squadra E Sicuramente ci aiuteranno A fare bene Ci porteranno avanti Tu hai militato anche Nell'Empoli? Sì ho fatto Tutte le giovanili La diciamo Fino ai 16 anni E quindi Adesso te l'aspettavi Questo espluato Nell'Empoli Con Sarri Primi in classifica L'anno scorso Anche hanno sfiorato La promozione In Serie A L'Empoli Appunto Dall'anno scorso Sta facendo Un ottimo campionato Anche loro L'anno scorso Non hanno partito male Poi hanno trovato L'assetto giusto Hanno acquisito La sicurezza Di cui necessitavano E ora stanno volando Speriamo anche noi Dopo un inizio Magari così Riusciamo a prendere Quella strada lì E a fare bene E a raggiungere Quei risultati E allora andiamo a vedere Ce la possiamo fare Il gruppo sicuramente È valido E può Può riuscirci Speriamo di trovare la strada Che bella verve Che ha Alberto Però Per essere così giovane Un 93 E bene Parli già da veterano Alberto Allora Commentiamo tutti quanti Insieme i risultati E classifica Della quinta giornata Poi andremo a vedere Subito il sesto turno Visto che si gioca Di martedì Avellino Varese 1 a 1 Brescia Crotone Qui attenzione 1 a 2 E è andato via Giampaolo Giampaolo Il tecnico del Brescia Non si è presentato All'allenamento Ha dato le dimissioni Ed ora si sta cercando Il successore Proprio in queste ore Cesena Carpi 4 a 1 Cittadella Juve Stavia 0 a 2 Empoli Padova 3 a 1 E il Padova per questo È andato in ritiro Poi commenteremo anche quello che ha detto Marco Lin Sulla partita contro Latina Latina Lanciano 0 a 0 Modena Trapani 3 a 1 Pescara Bari 0 a 1 Regina Novara 1 a 1 1 a 1 Anche tra Siena E Ternana Spezia Palermo L'altro anticipo del venerdì 1 a 0 Autogol Qui per uno degli uomini di Gattuso Però non è in discussione il tecnico per il momento Andiamo a vedere intanto la classifica Eccola qui Empoli ha 13 punti Secondo posto per Cesena e Lanciano E poi ci sono Trapani Varese Modena Novara Avellino 8 punti Seguono Palermo Spezia Crotone 7 Brescia Regina 6 punti Ma perché a 6 punti Comunque siamo ancora alle prime giornate Giampaolo l'ha presa così male Secondo te mister Quella sconfitta con il Crotone Beh Credo di aver letto Che c'è stata tanta contestazione Era già un po' di Qualche settimana Che insomma Brescia Non so Forse i tifosi Per quello che riguarda Giampaolo Hanno avuto la meglio D'altra parte Ancora una sconfitta in casa Brucia E evidentemente paga Questo tipo di situazione Non so perché Se sia dimesso Sinceramente non lo so Cioè è stata anche una contestazione Da parte dei tifosi E forse è stata un po' quella Secondo me Quando è così È legato un po' ad aspetti Che noi non conosciamo E quindi magari un allenatore decide Di tagliare la corda Forse perché Si è andato oltre Quello che è un po' Dopo cinque giornate Però si può aspettare Secondo me è stato un po' Ma sai magari Subentrano tante altre cose Magari può subentrare la minaccia Le situazioni Quindi ci sono allenatori Che magari hanno famiglia E decidono di Comunque sai La corsa è a due Sai tra chi? Uno l'hai visto anche qui a Frosinone Chi è? Corini Stavo dicendo Moriero Che praticamente ha fatto le valigie Corini E Gautieri Gautieri sperando che dica sì Perché Gautieri dice di no a tutti Quindi Beato lui Che si può permettere di dire no a tutti Oramai Ha detto no A tantissime squadre Brescia è una bella piazza Dimmi Domenico Dico Latina compreso Latina compreso E a proposito di Latina Doveva arrivare qui Al posto di Gautieri Quest'estate Marcolin Te lo ricordi che era fatta? Sì sembrava fatta A questo punto Verrebbe da dire meglio così Visto come sta andando il Padova Assolutamente sì Perché addirittura Gli ha portati tutto il ritiro Per cercare di fare gruppo Di fare quadrato E dalle dichiarazioni Addirittura Ha detto con il Latina Sarà per noi Come una finale di sempre Anzalberto Queste sono parole forti Sì sicuramente Una partita importante per loro Come lo è per noi Lui si gioca Forse O quanto ho sentito dire il posto Però Noi Ci giochiamo il campionato Quindi Dobbiamo cercare la vittoria Anche se siamo fuori casa Ovviamente Cercando di non perdere Sarà una bella partita Credo Due squadre buone Credo Entrabbi hanno Una buona rosa E che però Al momento Non stanno rendendo Come potrebbero Credo Vediamo cosa verrà fuori Magari Una delle due si sblocca O entrambe Credo sia una bella partita Cinque giornate senza vincere Mister Psicologicamente Per i giocatori Non è il massimo Padua Sì Parlo del Padua Diciamo che deve recuperare ancora una gara Quindi insomma Una gara in meno Il Padua Detto questo Io ho visto il Padua Proprio contro il Palermo Perdere in casa E Non mi è dispiaciuto Soprattutto il primo tempo Era in vantaggio Soprattutto il primo tempo Una squadra che Se trova l'entusiasmo Ha come diceva prima Il nostro ospite Ma tu dici Se trova l'entusiasmo Siamo alle prime partite L'entusiasmo c'è Eh no Perché l'entusiasmo È Come quello dice Bisogna avere la mentalità vincente Sì Belle parole Ma la mentalità vincente Ce l'hanno quelli che vincono Mica quelli che perdono Insomma Quindi Se uno continua a perdere Non ce l'ha mai quella mentalità Anche l'entusiasmo È legato a questo aspetto Insomma Quindi Quindi se riesce ad avere Diciamo ecco Nelle prime battute Un pensiero positivo Può fare male E quindi insomma Non mi fiderei più di tanto Alberto ma il Siena Non lo tifi nemmeno un po' Sì sì Il Siena l'ho sempre tifato Secondo la Roma eh Però l'ho sempre tifato Quest'anno Giannetti Che è uno dei miei migliori amici E sta facendo un buonissimo campionato Quindi sono contento Per la squadra E soprattutto per lui E allora vediamo insieme Il prossimo turno La sesta giornata di campionato Che si giocherà Nel turno infrasettimanale Di martedì Bari-Palermo Carpi-Brescia Crotone-Modena Empoli-Siena Juve-Stavia-Virtus-Lanciano Novara-Cittadella Padova-Latina Pescara-Avellino Ternana-Spezia Trapani-Cesena E Varese-Regina Io voglio la probabile formazione Da Domenico Ippoliti Per quanto riguarda appunto Il Latina Che andrà a Leuganeo di Padova Però mi metti una bella prova qui Dai facciamo una sorta di probabile formazione La facciamo anche con mister Incocciati Vediamo subito Allora tra i pari Chi mettiamo? Beh tra i pari penso Iacobucci Sta andando bene È giusto dargli continuità Alberto anche tu Metti tra i pari Iacobucci No non mi mettete in questa condizione Dai tanto sono a Padova Non ti sentono Sì credo di sì Ha fatto bene le ultime giornate Mi dici soltanto il portiere Te l'ho chiesto Sono il portiere Professor non ti chiedo nient'altro Grazie Mister in difesa In difesa c'è il rientro di Figliomeni Non lo so adesso se Breda opterà per farlo giocare di tolare Quindi quanta fama Brosco Figliomeni Domenico e Politi Sì sì Figliomeni Un po' di turnover anche lì dietro servirebbe Quindi penso che Figliomeni Anche sui falloni alti Sia un giocatore importante È giusto che Che venga inserito nuovamente dagli undici Anche per dare la possibilità Esposito di rifiatare Centrocampo Domenico Centrocampo pensavo Più una domanda per mister Incocciati Magari gliela faccio io tra poco Centrocampo penso Crimi e Bruno Diciamo in appoggio Davanti alla difesa Secas Con gli esterni Vistovski a destra E c'è questo ballottaggio Vediamo se Mister Breda continua a dare fiducia Alla Sanno Oppure lancia di Chiara Chissà Invece la domanda è per L'uomo dietro la punta unica Chi vede bene mister? Maltese Oppure magari un barraco reinventato In quel ruolo? Non ha quel tipo di caratteristiche Barraco È più un giocatore Insomma secondo me Latina non ha Quella tipologia di giocatore Che può garantire ecco Le giocate che sono importantissime Per questo sistema di gioco A tutti i giocatori simili Jefferson Jonatas Ghezzal Barraco Barraco addirittura Anche se differentemente Con Chiricò Insomma È negro La stessa situazione Ostinatamente Lo si lascia giocare Al centro della rigore È più un esterno Insomma Secondo me La squadra è stata Si è basata un po' Su quello che è l'aspetto Delle corsie laterali Considerato che l'allenatore Giocava col 3-4-3 Quindi servivano i cambi Adesso purtroppo Col cambio Di modulo O si adatta l'uno O bisogna adattare gli altri Adattare gli altri L'abbiamo detto La settimana scorsa Sì si possono adattare Ma io sono per non Stravolgere la tipologia Del giocatore Perché il giocatore S'è formato Soprattutto quando arriva A una determinata età Con quel tipo di caratteristiche E credo che Cambiare è meglio E credo che non sia opportuno Cambiare Quindi è l'unica punta Che mettiamo mister? E che rendono Sono l'unica punta Che può fare Diciamo Soprattutto perché Adesso Ristoschi Sta spingendo molto Potrebbe entrare Milani Che lo stesso spinge Quindi sono Degli ottimi Giocatori d'esterno Per crossare dei palloni Secondo me è l'unico Che può garantire Efficacia lì davanti È Jefferson Sotto l'aspetto Proprio Delle conclusioni Aeree Vediamo se è d'accordo Domenico Sì anche perché Venerdì Di cross Se ne sono Se ne sono sprecati Tantissimi Insomma Dei bei traversoni Che partivano Dalle due fasce Nessuno era lì In mezzo a raccoglierle Lo vediamo anche Sulle palle inattive Devono salire Cottafava Esposito E Brosco Per dare una mano Lì Quindi Una riete si serve Visto l'indisponibilità Di Jonatas E visto comunque Le motivazioni Di Jefferson Io direi Secondo me Sarebbe bene Puntare su Jefferson Mi piace La vostra formazione Magari se l'ha sentita Anche Breda Prenderà qualche consiglio Ricordiamo Gli indisponibili Domenico Jonatas De Giosa Gerbo E Chirico se non sbaglio Sì Purtroppo Proprio nella rifinitura Ha avuto un problema Una caviglia Una distorsione Quindi Ha dovuto saltare Questa chiamata Per Padova Domenico La riconoscenza Non è del mondo Del calcio Però A Gerbo È stato rinnovato Il contratto Sì Gerbo È un giocatore Sul quale Latina punta molto A dire il vero Si era creato Un po' di mistero Sulle sue sorti Un po' come tutti Quelli della vecchia guardia Che poi soltanto Ecco appunto Però diciamo Diplomaticamente Così La cosa si era risolta Purtroppo per lui Con quel grave problema Alla clavicola È stato operato In estate Quindi è stato fermo Tutto questo periodo Quando rientra Gerbo? Dovrebbe Diciamo Metà ottobre Dovrebbe avere L'ok per tornare Nel gruppo A tutti gli effetti Quindi secondo me Fine ottobre Potrà tornare a disposizione E in un centrocampo A 5 Farà molto Molto comodo Uno come lui Che dispone Di quell'accelerazione Di quel cambio di passo Che ti fa rendere La manovra Imprevedibile Insomma Meno compassata Di quanto si sia visto Possiamo dire Aurora Che tutte e due Le squadre Almeno per Credo che sia La prima volta Che accade Giocano praticamente Con lo stesso sistema Di gioco Mi avviso Marcolin Giocherà Col 3-5-2 E se è vero Come è vero Che Breda Dovrà proporre Quanto meno Due attaccanti Di ruolo Credo che sia Lo stesso sistema Di gioco Speculare Ieri sera però Avete visto Milan-Napoli Voi sicuramente Tutti e due Ippoliti E Incocciati Che sono due milanisti Qui Alberto Questi sono milanisti Anche delusi Lui si è divertito di più Però Io alle 3 Mi sono divertito di più Tu alle 3 Finalmente Tu alle 3 Balzaretti Facciamo i complimenti A Balzaretti Complimenti alla Roma Che si è giudicata Il derby Con la Lazio Però io vi ho nominato Milan-Napoli Perché Domenico Ma che effetto Ti ha fatto vedere Pecchia Lì Accanto a Benitez Tu che ce l'hai avuto Poi a contatto L'effetto Due volti direi Da una parte Sicuramente Fa piacere Perché L'uomo La persona Il grande professionista Merita Quel tipo di ribalta Però Pecchia Noi l'abbiamo visto A bordo campo A dare disposizione I suoi Secondo me Comunque Il ruolo di secondo E che secondo Sottolineo Comunque Gli sta stretto Lo rivolgo Lo rivolgo Su una panchina Di spessore Ci pensavo Ci pensavo anch'io A questo Però comunque Sai Se nel secondo Di Benitez Benvenga E poi Dio ti doglie E Dio ti dà E quindi A lui poi Gli è stato ridato tutto Con gli interessi Fortunatamente Perché se lo merita Quindi facciamo Un grosso saluto E complimenti Al tecnico Di Lenola Quindi Veramente In bocca al lupo A mister Pecchia Per questa sua Avventura Con il Napoli Allora Noi siamo Veramente in chiusura Volevo leggere Qualche messaggino Giusto Tanto per chiudere Lo so che Non mi ammazzate Dalla regia Non mi ammazzate Dalla regia Per favore No No Non li leggiamo Non li leggiamo più Abbiamo finito Va bene Mi dice Rocco Magna Pia Che vuole andare a casa Vuole andare a mangiare Quindi li leggeremo Poi la prossima volta Voi continuate sempre A scriverci E a guardarci Io vi ringrazio Domenico Eppoliti Alberto Grazie a voi Buona serata Alberto Alberto Massacci Quindi noi ci ricorderemo Questo nome Poi veramente Facciamo il tifo per te Per quando esordirai Con la maglia nero-azzurra Magari contro il Siena Dai Magari contro il Siena Ecco Adesso non so il calendario Bene quando ci sia Per la colonna con il Siena Non vorrei che fosse Chissà quando 21 dicembre Ah vedi che già lo sa Ah vedi che già lo sa Ah tipo stile Bel regalo di Natale Anche Grazie Domenico Grazie Alberto Grazie a mister Tu non ci sarai Mi abbandoni lunedì prossimo No lunedì prossimo Non ci sarò Perché dovrò Spieghiamo perché Non è che vai in vacanza No Dovrò commentare la serie B Dovrò commentare Cesena Non ricordo però Anche domani sera Sono a Mediaset Per la gara Palermo Con chi gioca il Palermo? Rivediamo un attimo la schermata Siamo nel buio totale Sì Siamo un po' nel buio Nel caos A quest'ora Siamo stanchi Ecco qui Vediamo No questa è la prima divisione L'abbiamo messo in difficoltà Questa è del domani sera Bari Bari Palermo Ecco Bari Palermo E poi Lunedì prossimo Poi vedremo Cesena E poi Cesena Pescara Ecco Mi sono tornato in mente Quindi Domenico lunedì prossimo Saremo orfani D'incocciati E noi cercheremo di rimpiazzarti Però sarà difficile Mister A me già viene da piangere Veramente Eh vabbè Ci mancherai tantissimo Però poi ritornerai Lunedì successivo Voi però lunedì prossimo Mi raccomando Dovete essere tutti quanti Qui davanti al televisore A vedere Bordocampo Serie B E domani sera Vi aspetto con Bordocampo Lega Pro Sempre alle 21.15 E sempre e solo Su Teleuniverso Buona volta a tutti Grazie a tutti Allora Grazie.